Roma e Los Angeles non sono poi così lontane. 4 milioni di abitanti, dimensione globale e un'amicizia che può portare a un futuro roseo per entrambe. Il sindaco della capitale italiana è arrivato nella città degli angeli con una missione ben precisa. Sia sul versante della cultura, del cinema, dell'intrattenimento c'è una grande possibilità di interscambio fra Roma e Los Angeles. Noi abbiamo molte cose da imparare in termini di modernità, possiamo offrire qualcosa in termini di storia e tradizione. C'era tanta Italia ad accogliere Alemanno nella casa della produttrice Marta De Laurentiis, compagna dell'indimenticabile Dino, sulle colline di Beverly Hills. Dal compositore Andrea Morricone ad Elisabetta Canalis, da Giociampa a Clarissa Barth a Richard Harrison. americani ma con un grande legame con il nostro paese. Il sindaco di Los Angeles, Antonio Villaraigosa. Roma è una di queste grandi città e così è Los Angeles. E quindi, per fortificare e fortificare la amministrazione tra noi, se è concentrato su cultura e cinema, arti, trade o turismo, foreign direct investment, climate change o whatever, queste sono, credo, le opportunità importanti che i leader come me e il maire di Roma devono prendere avanti. Lo spettacolo e l'intrattenimento, oltre all'arte. La vera chiave della collaborazione tra Roma e Los Angeles può essere lì, con risvolti veramente interessanti. L'antico gemellaggio fra Hollywood e cinecittà ha ancora una valenza, ancora una possibilità, soprattutto adesso si cerca di rilanciare il cinema in Italia e a Roma. Quindi io penso che su questo versante si potrà lavorare molto bene. Ma tutta la cultura, tutto l'intrattenimento, anche Disneyland, anche quelli che sono i parchi tematici, sono degli aspetti molto importanti che cerchiamo di realizzare anche in Roma. A fare da tramite tra i due sindaci, le istituzioni italiane a Los Angeles, impegnate più che mai a consolidare i rapporti tra Italia e USA attraverso la comunità italo-americana nel sud della California. Roma e Los Angeles sono due città-stato, quindi stabilire la collaborazione tra queste due grandi realtà metropolitane e moderne è fondamentale perché da lì dipendono anche i rapporti tra gli stati. Il confronto tra le esperienze di due grandi realtà metropolitane come Los Angeles e Roma è fondamentale perché permette a tutti di imparare dall'esperienza degli altri e di fare progressi su queste basi. L'evento di questi giorni, che vede questa bellissima scultura proveniente dai musei Capitolini presso il Gettivilla, dove resterà per sette mesi, è proprio quasi un segno della città di Roma che lascia a Los Angeles e del rapporto vivo che c'è e che si vuole creare ancora di più nel futuro.